La giunta regionale della Campania ha concesso 35 giorni alle aziende intenzionate a portare via dei capannoni dell'ex stir di Battipaglia 11.000 tonnellate di frazione umida tritovagliata e stabilizzata. Dopo due mesi e mezzo d'attesa è stata avviata la gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di recupero, smaltimento e trasporto in ambito nazionale dei rifiuti provenienti dagli stabilimenti di tritovagliature e di imballaggio dei rifiuti. L'appalto vale 6,3 milioni di euro di cui 4,5 milioni la giunta regionale li ha stanziati per rimuovere dall'impianto partenopeo mentre 1,85 milioni di euro a disposizione dell'azienda che si farà avanti per liberare la struttura Battipaglia da 11.000 tonnellate di umido tritovagliato e stabilizzato. Si tratta di quella parte di organico che i cittadini lasciano nel secco e che non può essere destinata a compost. La giunta regionale la offre 168 euro a tonnellata. Alle 13 del 30 novembre sulla scrivania di Umberto Scalo, responsabile della gara per conto della struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in valle, dovranno arrivare le offerte.